Nuova sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, dietro font per l'area dell'aeronautica. La decisione di non utilizzare più l'area dell'aeronautica di Via Lorina per la realizzazione del nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri è finalmente un passo avanti nella direzione auspicata. Lo afferma il parlamentare nazionale Paolo Figara del Movimento 5 Stelle che nei mesi scorsi aveva sollevato il tema nelle sedi istituzionali competenti in Parlamento. E' un segnale importante perché segnala la presenza di una sensibilità nuova sul tema generale del waterfront di Via Lorina. L'avere optato per una diversa area come sede del nuovo Comando Provinciale può anche sottintendere il venir meno dell'interesse prettamente militare su quella zona e apre in maniera decisa una nuova pagina per progetti di fruizione pubblica nel idroscalo De Filippis. Il lustraficare che richiama ancora una volta alla collaborazione politica e amministrativa a tutti i livelli il waterfront di Via Lorina è centrale per iniziare a ragionare seriamente di un piano di sviluppo per la Siracusa del domani con idee chiare e senza spazio per gli speculatori. Alcuni mesi fa, in risposta a una sua interrogazione sul tema, il Ministero della Difesa aveva anticipato il ripensamento in atto segnalando alcune criticità emerse dopo la firma del protocollo d'intesa del 2017 tra la Regione e il Comando Legione Carabinieri Sicilia. Proprio la Legione Carabinieri Sicilia ha poi chiesto al Comune di Siracusa l'individuazione di un'alternativa a Via Lorina con le caratteristiche previste per legge.